La battipagliese rende noto che la gara di campionato contro il Valdiano in programma domenica 6 gennaio allo stadio Passione di Battipaglia, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di eccellenza Girone B, sarà interamente dedicata alla figura di Pasquale Leonardo, storico massaggiatore per circa 20 anni della battipagliese. Prima della gara, spiega la dirigenza delle zebrette, verrà consegnata una targa commemorativa e familiare in modo da ricordare quanto di buono e indimenticabile ha fatto Pasquale negli anni in cui è stato parte integrante della nostra società.